Basta così Il timer era partito ragazzi Ormai siamo live Fine del riscaldamento Si aprono le danze Siamo live Braciola Bra Braciola Mo torna un bestemmione De quelli che capito Giuro Un posto tranquillo Ma quale posto tranquillo? Fino a modi si è scaldato Quindi Vai andiamo Vai Attenzione Scelta unanime per la taglia Cassauro for me Cassauro for me Wow Niente ragazzi Tutto l'hype è finito così Pensavo di accedere almeno due casse Invece no L'obiettivo è eliminare il bersaglio taglia Potenziamento da campo di famiglia Ma che ci abbiamo Non è bello Eh stiamo quasi Che facciamo? Un attimo Sto andando da il bunker Il bunker Stiamo divisi Eh vedo vedo che stiamo divisi Però io ho chiesto Nessuno mi risponde E quindi Trovo l'autoressa Non aprire questa cassa che te sfondo Eh bene Ragazzi siamo i dindy Che facciamo? Dindy Il carrello dove sta? Il carrello sta qui Stazione di acquisto Identificata Andiamo La parte opposta della Della Daria Oh c'è un piccolo ligato Direzione Garello ragazzi Aspetto Ok Allora finisco Te lo taglio Agli altri hangar Qui dietro Non c'è la ragazza Ok La ragazza Non c'è la ragazza Non c'è la ragazza Credo che una cassa morita Qui c'è una metra dietro Comunque belle le casse Buggate Dentro alle altre casse Potenziamento da campo disponibile Ragciola Ragciola ci potremmo litigare il daere un giorno Che problema? Mi dissocio Ma che cazzo L'idea di uno strano Aspetta Che è successo? Ma che è L'idea di uno strano Mangi L'idea di uno strano Più 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 l'oddi Arriva Un lancio D'equipaggiamento Che mi ti da? Che ci faccio L'undiciglia adesso? Ma come ti andrì? C'è un po' C'è un po' C'è un po' Ricognizione attiva Ragazzi Gente Guarda E' il punto di raduno Oh Tempo scazzo Obiettivo fallito Che fine munizioni Area bersaglio marcata Fuoco alle polveri Oh Stringer 3 ricevuto Attacco in corso Colpi fuori bersaglio Abbiamo l'elicottero E' andato a pusha Quelli Vai Braciola 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 Non c'è E' andato Via Via Vai E' andato Via 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 No, 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 no. Uno Stato Quello stacco Guido io Mi è stato uno dietro Movimento E tu andata a far cagare Amo te ne sei accorto Dai andiamo da questi Dai andiamo andiamo Braciola ci stai? Ti passiamo a prendere Ragazzi se vede Sei salito Braciola? No Ragazzi se vede brutto lanciate Vi lancia due Eccolo Eccolo Movimento Nicottero nemico Occhio non è spazio Un pensaglio alleato Io mi sono capato Un pensaglio alleato Scendete rega scendete Scendete rega UAB nemico in volo Nemico in discesa Dai Non soffiscono Lanciare le cinture Lo tolgo Non soffiscono Meglio taglia eliminato Ma è fatto Ma chi è che mi ha sparato raga? Ma chi è che mi ha sparato? 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 Dai rega Dai rega Ma quanto è gente vero? E' un Benvenuti nel gulag Chi sopravvive conquista Il prossimo sei tu Preparati No Vinci qui E ti rimandiamo in prima linea Se perdi Sei fuori gioco Vallo fuori O conquista E' acconciato per le feste No 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 E' impossibile Non c'è le confusite? Se ha abbastanza soldi Il tuo team può pagarti la cauzione Ma che scendolo? Che cosa si spara meglio? Eccolo sui dati Vai Eeeh Vai Metto Roba Fatta fa' Un bel stroncino Coltratto sciacallo individuato Non andai lì C'è sta gente La smetto D'ignorare Fatta fino all'ultimo scusate una roba delle gatti Grazie. Oh, non è stato. Stavolta l'abbiamo bene, non ci ripariamo. Dai, disattivo su te, ragazzi, sono così. Siamo tutti più felici. Allora, account disattiva crossplay, sì, via, go. No. Che? Ho messo attivato, vedo se lei. Eh, tanto se lo io ti attivo, quindi. Cioè se lo io ti attivo. No. 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 in azione. Guido io. Dov'andiamo? C'è gente eh? Occhio! Il mucco vuole. Bersaglio taglia disponibile, diamoci da fare. Ma dove sono scesi? Sì, avevo sceso. Il vostro compagno è stato confinto. Sta tornando alla base. Bene, non ci ho fatto più. Mi hanno fatto il video. Mi traglietta, qui. Corazza, qui. Vengo da te, vengo da te. Sono due ore che stai in volo. Bersaglio, ma tu in tutto questo dovresti stare, scusa. Non ci ho fatto più. No, no, no. Non ci sono due. Io sono scelto la taglia. Abbiamo la taglia? È un problema qui lì. scuola come un po' in spogarti su quei bastardi pericino orgoglio con qualche insulto per piaccia o meglio ancora prendili assalzati fai attenzione presto sarai il prossimo sei tu vai a guardare il mondo e ti rimandiamo in prima se perdi sei fuori gioco tocca a te soldato occupati di quello stronzo ti sei fatto valere preparati per entrare in azione compagno nel gulai se sopravvivene fuori posso andare al carello a piaccia che so il dio posso andare al carello perciò 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 è tutto sei morto scusa allora sono morto oh ok c'è gente c'è gente che è? breccia resta in volo resta in volo perciò 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 che mescoli perciò Il tempo scorre, raggiungi il bersaglio. Mi puntano! Tenete lì a posto! Sono morti? Contratto completato Il pagamento è stato offentato Siamo 4.000 Non c'è una lera praticamente Mitraglietta qui State rica Ma come è tutto questo silenzio? Che succede? Non c'è me i soldi Il ricattolo? 8.000 8.600 8.600 3.000 Uapì Nemico in colo Elicottero nemico Sparano? C'è un cattino che ci spara Non so dove da dire Soldi, soldi, veloci, soldi Dai cazzo Non cazzo Mi hanno colpito Qui mi sparano Mi hanno colpito Lancio una granata Lancio una flashbang Gassi in arrivo Mi stanno sparando Mi stanno sparando Ok mi sparò Lancio decurtaggiamento alle altre in arrivo Lui c'è un cattino Lui c'è un cattino Chi è? Ah non è Stefano Stai scendendo la macchina Gassi in arrivo Sposta dentro della zona sicura Io un secondo Versaglio marcato Di nuovo Nemico marcato Vabbè dai Vabbè dai Su No 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 C'ho avuto Non c'è un cattino Cazzo Un alleato è stato segnalato come bersaglio ricercato Proteggilo a ogni costo Un hell Sah un 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 Guido io Era per te il bombardamento C'è stato scritto Un bracciolo Sì Faccio sognare Metti le ali a questa macchina Raga, ho un'idea Prossima partita Gioco con scudo E RPG Bravo Tutta la partita Devo vincere una partita così raga Anzi no, scudo e balestra Scudo e balestra di Cold War Senza accessori perché non ce l'ho Non l'ho livellata Mantenete, bracciolo Cerca di mantenete vicino al loadout Cioè quando lo stai definiti Non male che vanno A volte che sei morto tu sti cazzi Sei morina di noi C'è tutto qua Quanto manca Devo avere un conto 37 secondi No ma sta sempre Si stai tanto Sta safe Sta 35 secondi Sono sufficienti per far morire un bracciolo Bello, braccio Due lodi Gente davanti Gente davanti In vista Stai Ricercavo vai No resta ne uno Resta ne uno Ma dopo questa raga Carrello Carrello Stazione medica segnalata Cuidò io Come parcheggi tu braccio? Non c'è parcheggia nessuno No ma No ma Mi sa che se non mi sbaglio Il parcheggiatore al mare Vedi? Si Eh braccio Si si Ma lì Ha la strada interrotta o Si Ha la strada interrotta Si Marco C'è gente All'altro palazzo Eccolo Guido io Aha Si Ha la strada interrotta Si Ha la strada interrotta Si Ha la strada interrotta Si Si Eccolo Crea Aspetta, aspetta giù, aspetta, aspetta lì, aspetta lì, aspetta lì, aspetta lì, braggio. Guido io. Guido io. UAPI nemico in volo. Tenaro, affermativo. Ma non lo got, cocavolo. E' qui quello sta laggato. Sai ce la fai venite qua? Eh, sto a prova. Sto a piedi, raga. Stai a piedi. Vengo un contrope... È il nostro passaggio. Vengo io con la pistoletta. Siamo i più forti del mondo, andiamo. A me il volante. Non si fa fare un sciacallo, raga, non si fa fare un sciacallo. Ah, sì, eh, stiamo a cento... È l'ultima safe, raga. Wow, abbiamo cazzalato fino a mo' praticamente. Guido io, vabbè. Qua mi è nemico in volo. Ed? Oh, ragazza, non c'è io. Lasciatemi un po'. Eh, c'è la pistoletta. Mi siedo davanti. Che famiglia, dai, amico. Ci ho messo, ci ho messo. Investimoli, regale, investimoli, dai. Provammoci, adesso non vai più. Ma guarda, stiamo volando. Guarda, stiamo a piedi, resta a piedi, resta a piedi. Come ti chiamano, eh, beh. Un vecchio, un vecchio, un vecchio, un vecchio. Non soppendo il cuoco nemico. Oh, vai, sta qua dentro, è qua dentro, regale, sta qua dentro, sta qua dentro. A terra. Fatto. Bravi, regà. Bravi. Questo gioca con il drago, non fregà. Cassi in arrivo, alla nuova zona sicura. Che gioca, affagno. Ok. E va, mi servono... Che c'è, mi sono livello d'out? Il denaro è nostro. Soldi? A me che è soltato, ma... Soldi, soldi, soldi. Quali soldi ce l'avevo? Quel denaro è nostro. La 4000? 7000, non ce l'avevo. Vabbè, c'è la cassa di munizioni. C'è stata una cassa di munizioni qui. UAPI, nemico in volo. Eccolo. Ripetizioni, è una merda. Sei pronti? Andiamo, dai. Raga, stiamo dentro la serifera. Tocca di togliere da qui, raga. Stiamo a... Siamo nella zona sicura. Vabbè, le arma prende me. Eh, ma sbrigatevi, però, raga. Non mi amo, non mi amo. Eh, no, 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 no. Eh, qua c'è stata... Posso guidare io. Fucile da fucile di precisione marcato. Buon mardamento, ho qui sopra, cosa ho, cosa ho, qua, qua, eh? Sono qui sopra. Andiamo. UAPI, nemico in volo. Eccolo. UAPI, nemico in volo. Avvio scansione radar. Mi ha già sapevo, non mi ne sa farlo. Trocato uno. C'era uno. Ho fermato uno. Occhio, ragazzi, li bussano. Occhio, sta un altro team, mi ha sparato da sinistra. Qui. Gli stronzi, mi buono. Sera uno. No, 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 ma se è stato male sta M4 questo, regale, vi giuro. Ma come cazzo gioca la gente, oh? Che cazzo è stato? Il bombardamento. Arrivo. Oh, c'è resta un altro. Uno sotto pure, regà, occhio. Andiamo. 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 Ho smirato come un bastard, regà. Capri, mi vieni, farei, ce n'è un altro, ce n'è un altro, ce n'è un altro, ce n'è un altro. 24 nemici rimasti, falli fuori. Serve supporto, bersagli marcati. Qui, stranke 3, raggiunto. Andiamo. 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 Andiamo, 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 andiamo. Andiamo dentro. Sarà uno. Spiscono. Granata partita. Atterra uno, regà. Regà, mi vanno a confermare con lui. Sto dietro, mi sparano dietro, mi sparano dietro, mi sparano dietro, non mi fate finire, gà. Non mi fate finire. Scendi, scendi. Eh, non posso scendere, non posso scendere. Uno che spara e uno che mi ha arrestato. Sarai alla safe, esplicatevi. Fatto, non era nulla. Terzo, non dietro a nulla. Eh, abbassati. Ma qui sotto, regà. Diciamo che stavo messi bene, regà. Regà, qua c'è sta roba, eh. Dai, 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 dai. Comunque, porco Dio, vada. Che cazzo è il bestemmi? Ma addio, 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 addio. Mi attaccano. Bombardamento, bombardamento, regà. Siamo amico, al riparo. Dai, vieni, 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 vieni. Tutto a posto, resisto. Capri, 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 no, no. Avete del gas in arrivo. Lì in mezzo, praticamente, è una merda propria. Gira, gira, destra, gira, destra. E chi, ci cerchiamo da un po' poste? Dove? Aspetta, stiamo così, stiamo troppo scoperti. Stiamo troppo scoperti, stiamo. e i 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 ho letto che forse fanno un altro bilanciamento delle armi quindi l'ultima volta che abbiamo scelto la taglia lì agli hangar non è andata a fini bene no no non proprio bene infatti c'è un attacca dietro fuoco autorizzato su tutti i bersagli i 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 stanno preparando allo schieramento ostile in discesa nell'area occhio in alto i 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